Grande, la copertura mediatica proposta nei due giorni del sessantesimo rally Bagliossolane. Su News 24 le prove speciali in diretta streaming saranno sabato la Fomarco e la Domobianca 365 e domenica la Crodo e la Montecrestese. Ovviamente non mancheranno le immagini della prova speciale di Druogno e della Cannobina. Camera on board, droni, ospiti in studio. Nuova Swift Hybrid, tutto di serie e senza sorpresa.